Laudato sì, Laudato sì, Laudato sì, Buongiorno Signore Corella Stasi Corella Stasi Sonce dell'Embrazione Nammarie Il Signore in Tipe �ato nel Dio e bendito sia il frutto del tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i giorni, e il Signore della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i pecatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è tutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i pecatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Sdravo, Madre Dio, sdravo, 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 S Grazie. 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 Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra, di tutte le cose visibili e invisibili. e noi non solo, Signore Gesù Cristo, 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 Therefore you, my children, my apostles, in the silence of your hearts, listen to the voice of my Son, my children, do not try to comprehend everything immediately, because even I did not comprehend everything, but I loved and I believed in the divine words that my Son spoke. My Son, who was the first light and the beginning of redemption, The apostles of my love, you who pray, who do sacrifice, who love, who do not judge, you go and spread the truth. The words of my Son, the gospel, because you are the living gospel, you are the rays of light of my Son. My Son, my Son and I will be with you, will encourage you, and I don't know if it's test you or tempt you. My children, my children, always pray for the blessing from those and only from those whose hands were blessed by my Son, from your shepherds. Thank you. Thank you. Grazie. Grazie.